Siamo allenatori in seconda del Barano Ciro Manella, mister, conflitto 4-1 in casa contro il Giuliano, forse i primi 20-30 minuti il Barano ancora negli spogliatoi, poi una buona prova se possiamo dire così della squadra. Se vediamo bene, nei primi 20-30 minuti abbiamo avuto 2-3 occasioni che potevamo fare meglio. Sapevamo che oggi giocavamo con una squadra di altissima qualità e in questo caso la qualità dei singoli ha fatto la differenza. Se andiamo a valutare le prime due palle in area di rigore per noi abbiamo preso due gol. Sapevamo, di cosa hanno fatto i ragazzi oggi? Comunque hanno fatto una buona partita. Lo ripeto, sapevamo che non è questa la partita che ci doveva dare la differenza in chiave salvezza. Va bene così, i ragazzi devono continuare a fare quello che stanno facendo e lo stanno facendo anche bene ultimamente. Quindi pensiamo già alla prossima. Questa era una tappa che sapevamo che per noi era difficile, non impossibile, però i ragazzi ci hanno provato e poi il risultato è un pochino bugiardo. A fine primo tempo cambio in campo scritturale, è stato anche lui a dare una scossa, una reazione di questo Barano? Sì, vabbè, scritturale sappiamo il rendimento standard che ci dà. Oggi abbiamo fatto delle scelte tecniche e adesso a dire se c'era scritturale prima o dopo cambia poco in questo momento. Ha fatto bene come hanno fatto bene gli altri, come ha fatto bene qualcun altro. Partita contro il Giugliano, probabilmente la salvezza non veniva decisa contro questa partita e va decisa contro altre squadre, contro scontri diretti. Assolutamente, lo ripeto, la salvezza non passava sicuramente per questa partita col Giugliano. Dobbiamo pensare, domenica abbiamo la Fregrea, poi abbiamo il Montragone in casa, quindi sono queste le partite che noi dobbiamo fare punti. Sapevamo che questa era la situazione.